Ciao a tutti ragazzi, io sono Tassi e benvenuti in questo nuovo vlog Tipo da un sacco che facciamo un vlog Ah io sono un timo oggi, si Questo è un cappello che ho comprato a Romics Tipo l'inizio d'ottobre, si E non ho avuto tempo di tipo usarlo Perché non lo trovo più Tipo oggi ho fatto, oh guarda c'è un cappello di timo Lo useremo per il vlog, yeah E quindi salve, benvenuti in questo nuovo vlog Oggi andiamo a parlare un po' di tante cosette Perché in generale tipo parliamo di tante cose durante il vlog Iniziamo con una cosa un po' più importante Sì più o meno Che diciamo riguarda il secondo canale Infatti tipo ho visto il secondo canale Un po' che non faccio video sul secondo canale E questo è dovuto al fatto che questa settimana è stata tremenda La seconda parte di ottobre è stata un travaglio assurdo Nel senso che tra youtube, scuola e il resto Non ho avuto molto tempo libero E quindi La cosa migliore da fare era comunque fermarmi per il momento Comunque oltre al fatto che Su un canale parlo di anime In questa stagione non è che ci sia stata tanta roba Quindi è questo anche un motivo per cui mi sono fermato Però da la prossima settimana, quindi da lunedì, da questo lunedì Riprenderò a far video che saranno comunque non dei video giornalieri Perché non ce la farei a fare dei video giornalieri Però cercherò di avere due o tre video a settimana anche sul secondo canale Quindi se vorrete seguirmi trovate il link in descrizione Quanto ogni video È semplicemente un canale dove non giocherò Però parlerò di cosette che potrebbero essere interessanti per voi Se volete ascoltarle Perché sono belle, alcune sono davvero carine Quindi, perché no? E quindi questa è la piccola novità per quanto riguarda il secondo canale Che riprenderà E di conseguenza parliamo un attimo del primo canale Perché è quello dove faccio il gameplay Che è questo Quindi, ciao Sei arrivato adesso qui, eh Ciao, ciao Benvenuto Sei il numero 47000 qualcosa Quindi, wow Hai un numero Non è una bella cosa che lo so Avere un numero Non avere un nome, avere un numero Wow Brutta cosa Comunque, lasciando stare questa cosa Volevo ringraziarvi perché Visto che adesso sto parlando i numeri Siamo arrivati a 50.000 Molti mi hanno chiesto cosa farò per i 50.000 Non ne ho la minima idea E penso che non farò nulla Sì, è una persona orrenda Lo so Sono una persona che non pensa mai a nulla Non so sicuramente cosa fare per i 50.000 Ci sto pensando ancora a 2.000 E passa iscritti per pensarci Quindi, vediamo un po' cosa fare In ogni caso Comunque, penso ci vorrà ancora un pochetto Quindi, qualche settimana di tempo ce l'ho per pensare Seconda cosa Il primo canale Serie in atto Come vedete ci sono un paio di serie Che sto mandando avanti Sono iniziate un sacco di serie Dall'inizio di Più o meno la fine di ottobre L'inizio di novembre Che sono serie multiplayer Perché sostanzialmente Ho delle serie single player Però volevo comunque portarvi qualcosa di un po' differente Dal solito single player Infatti Ho provato a fare delle serie con Altra gente Infatti ho una serie con Pepo Che la impariamo la mod E impariamo le mod Che sul mio canale magari È un po' più È un po' meno seguita Perché comunque La maggior parte di voi Guarda il mio canale Guarda l'Olysecraft Che comunque una serie È completamente moddata Ha visto molte altre stagioni L'Olysecraft Quindi le mod le sa E quella magari non la vede tantissimo Però È un discreto successo anche Nel canale di Pepo Quindi mi piace continuarla Perché mi sto divertendo A giocare con lui E davvero Stiamo Ci stiamo divertendo A fare un sacco A registrarla Quindi Continuerà molto presto Penso non domani Magari non ne riprendiamo Perché Ti mando un po' Di problemi Come ho detto Al trovarci Perché Questa settimana è stata orrenda E È finita Quindi Ok Finalmente La settimana orrenda è finita E Riprenderemo quindi A fare quella serie Nel frattempo C'è una serie con Gigi Che è la Utopia Che è una serie Completamente sclero È tipo la Vecchia Mannaggia E Spiegheremo dopo Dove è finita Ma è finita tutto Insieme alla Material Energy E È una serie Multiplayer Un po' normale Tipo la Impact Flux Però Multiplayer Quindi Ci divertiamo pieno così E ci stiamo divertendo Un sacco Poi Impact Flux Serie single player Che L'ho affiancata Sì ma L'Olysecraft Potrebbero sembrare simili Ma non lo sono L'Impact Mi richiede di fare Un certo tipo di cose Durante l'episodio Episodi Abbastanza programmati Nel senso che Lì Devo fare Delle cose Per andare avanti Nelle quest Mentre l'Olysecraft Faccio Pieno quello che Decido di fare Magari una settimana Dico Guarda dovrei fare questo Dovrei comunque fare Un certo tipo di cose E quindi Lì è un po' meno programmato L'Olysecraft Perché posso decidere Dove Dove smistarle io Le cose Invece Nella Impact Sei costretto più o meno A seguire un certo Percorso Che poi è giusto E così E mi sembra Normale farlo E Poi Impact Flux Che comunque esce ogni giorno Quindi sto cercando di far uscire Sia Olysecraft Che Impact Sono le mie serie Principali Sul canale Perché sono serie Single player Single player Sono sempre serie principali Stanno continuando tranquillamente E sto facendo uscire Più o meno L'Impact ogni giorno La sto facendo uscire Olysecraft un po' meno Perché sto facendo altre serie Quindi devo comunque regolarmi Con i video Che sto facendo Sto riuscendo a farne uscire 4 al giorno Se è possibile Però come vedete Questa settimana Sono un po' diminuiti Perché Problemi scuola Famiglia Insomma Tante cose strane Che succedono ogni giorno Oh mio dio Perché la vita è così triste Comunque Altre cose a parte Cosa stiamo facendo Oltre queste due serie Stiamo facendo anche La Material Energy La Manage Autocraft Stiamo facendo altri giochi Tra cui Rise E domani Uscirà anche Il nuovo gioco Anzi oggi Sì oggi Uscirà anche Il nuovo gioco Che comunque È una presentazione normale Di un gioco Che mi ha offerto Alifax Grazie all'uito anche di Luke E Parliamo però Delle altre serie Di Minecraft Nel mentre Per quanto riguarda La Manage E la Material Energy Sono state bloccate Per diversi motivi La Manage Essenzialmente Abbiamo avuto problemi Per un paio di settimane In registrarla E penso che La chiuderemo Perché non Non ci troviamo Col tempo Soul Che ha iniziato la scuola Non può registrare In un certo orario E qualcuno Nell'orario in cui c'è Soul Ha problemi E mi sembra giusto Quindi Comunque Fare una serie in quattro È complicato Davvero Quindi È un po' complicato Quindi per il momento La stoppiamo La riprenderemo in futuro Con la Mad Pack 2 Perché è uscita E Boh Vedremo cosa fare Per il momento Comunque È stoppata Per quanto riguarda La Material Energy Xander è stata Una settimana e mezzo Da Luke Quindi adesso è tornato Lo convincerò A registrare Perché una persona cattiva Non registra con me Quindi Una persona cattiva Mi chiamo A Zola E La continueremo Riprenderà tranquillamente E Non c'è nessun problema Per quanto riguarda Invece Rise Che è una serie Che devo dire Che a me sta piacendo Discretamente È un gioco Molto interessante Per quanto riguarda La storia Pecca un po' Di gameplay Perché è un po' Ripetitivo Lo so L'ho notato anch'io Però La storia A mio parere È abbastanza interessante Comunque è carina Quindi voglio finirlo E Ho avuto un problema Con le registrazioni Di vari video Perché sostanzialmente Registrare la webcam In sincrono Con il video È un po' complicato E usando Action Non mi esce L'audio del video Usando Fraps invece sì Però poi dovrei Registrare la webcam In un altro momento È una cosa abbastanza complicata E mi chiede tantissimo Tempo per il montaggio Quindi Sto cercando Di trovare la soluzione Migliore Per poterlo portare A compimento Senza tanti problemi Ho perso un paio di video Quindi dovrò Registrare la webcam Per la parte Che ho già fatto E Erano 48 minuti buoni Quindi dovrò comunque Fare una buona parte Però non è un problema E Cercherò di portarlo a termine Come per esempio Anche Jack and Dexter Che Mi sono fermato Ma che davvero pochissimo Pochissimi episodi Però Non sto avendo davvero Molto il tempo Di poter pubblicare Jack and Dexter Perché Mi chiede Ancora altro tempo Jack and Dexter E quindi Sto varando opzioni Di farlo in live E completarlo Completarlo E per quanto riguarda Live stessi Cercherò di fare Un meno Uno o due live A settimana Che saranno più Verso il fine settimana Quindi venerdì e sabato Perché sono i giorni Un po' più liberi E posso farli tranquillamente La domenica no Perché mi alzo tardi Perché la domenica È il giorno di riposo E sto comunque tranquillo Senza tanti problemi E quindi Ficata E Questo viene quindi Il programma Per quanto riguarda Il canale Ora parliamo un po' Di cose Non tanto specifiche Del canale Ma cose Un po' particolari Nel senso Prima di tutto Vi ringrazio Come ho già detto All'inizio del video Perché State diventando tantissimi Tipo siamo 47.000 48.000 Comunque siamo diventando tantissimi Mi fa piacere Che state crescendo Pian piano E che vi piacciono Molte serie del canale Che mi date sempre Dei feedback positivi E anche alcune volte I feedback negativi Che sono giusti E tutto il resto E Comunque Oltre a questo Sto cercando di portarvi Anche qualcosa Per quanto riguarda L'hardware Perché Stiamo collaborando Con varie Case Di produzione Di ram SD E altre cose varie Per Poter riportare comunque Qualcosa che a voi Che voi mi chiedete Molto spesso Ovvero Ulisse Ho dei soldi Devo farmi un pc Come faccio a farmelo Che componente Devo prendere E quindi Voglio portarvi alcuni esempi Di alcuni componenti Ottimi Per poter giocare Soprattutto se fate Come me Molto minecraft Quindi Cercherò di occuparmi Più o meno Di quella Pascia Per il momento Poi in futuro Magari Continuare Da questo punto di vista E Quindi Usciranno alcuni video Di recensioni Che spero vi apprezzerete E Saranno dei video Recensioni Non Dicendo Guarda Questa cosa Questa casa Produce Mi ha dato questo Gioco Questa cosa Quindi questa cosa È bellissima A prescindere No Perché mi sembra Giusto poter dare Una recensione Che non Sarà sicuramente Del tutto positiva Del tutto negativa C'erano dei punti positivi Dei punti negativi Come Normali cose Normali strumenti Che ho Comunque A casa Come per esempio Queste cuffie Queste cuffie Per esempio Che ho andato a BigFenix Sto provando E farò recensione Molto presto Comunque Delle cose carine Che Sono molto Molto utili Per voi Anche perché Non vorrei Che come per esempio Comprate queste cuffie Però il microfono fa schifo Volete sapere Ulisse Il microfono com'è Magari L'ho provato Vi dico prima com'è E Vi ho dei consigli più utili Perché così Non fate l'errore mio Di spendere dei soldi Che non sono inutilmente Perché le cuffie sono buone Però il microfono fa schifo Quindi ho dovuto comprare Un microfono da tavolo Comunque Questi quindi sono i progetti Per la prossima settimana E piovranno anche La fine del mese Quindi Tutto Penso fino a dicembre E Pensavo Come evento speciale Che però Ve lo preparerò Solamente nel prossimo mese Di fare un piccolo live stream Di una decina di ore A dicembre Nel 23 Probabilmente Perché Il 24 Il 25 In genere Arrivano parenti a casa Quindi non avrei Comunque del tempo Per poterli fare Quindi il 23 Se riesco 10 ore Che partirà la mattina E finirà il pomeriggio Quindi qualcosa di bello Interattivo Con voi Che sicuramente Sarà fatto magari sul server In cui farò entrare anche voi Ok Quindi potrebbe essere Una cosa interessante Da fare Giocheremo altri giochi Oltre a minecraft Giocheremo Vari giochi Comunque vedremo un po' Come fare Però Lo sto ancora organizzando Quindi Vedremo un po' Come fare E Quindi Nient'altro Spero continuerete a seguirmi Ricordate che è una pagina facebook Dove Scrivo tutto ciò che volete Ricordate che Stasera alle 7 C'è un live stream Sull'impact clax In cui faremo La casetta figa Coccolosa Carina e coccolosa E mi dispiace Deve registrare sempre Il vlog di sera Però La mattina sono a scuola Quindi è un po' difficile Registrare Quando c'è ancora la luce Anche perché Tipo alle 5 Il giorno diventa buio E Sono costato a usare La luce artificiale Però Fa nulla Fa nulla E Nient'altro ragazzi Vi ringrazio per stati con me Anche in questo video E volevo mostrare una cosa Che ho comprato da Romics Che non l'ho mostrato Sinceramente Che è questa cosa Ed è Un portafoglio di Akku Un anime di cui vi parlerò Molto presto Insieme a Kurokono Basket Che Sono due anime Molto interessanti Sullo sport Che mi sono piaciuto Di avere un sacco E che hanno avuto Un gran successo In Giappone E me ne parlerò Quindi sul secondo canale Penso sarà il prossimo video Che uscirà sul secondo canale Che probabilmente uscirà Tra lunedì e martedì Appena possibile E nient'altro ragazzi Vi saluto per questo video Ci vediamo nel prossimo Vlog Prossimo video gameplay Quello che volete Come sempre Vi ringrazio Vi voglio bene E al prossimo video Ciao ciao ragazzi